Un picco guerriero, senso come un fulmine dal cielo E andiamo ragazzi, pronti? Bene ragazzi, siete uno spettacolo triste, triste, triste Miss Primina Eccoci qua, abbiamo appena finito la nostra bellissima prova, commenti a caldo ragazzi Ciao a tutti Ciao ragazzi, ci siamo impegnati Domani ci rifacciamo Inizia così la nostra situazione di Roma Ho il braccio abbastanza lungo Marcia Marcia Tiro Ciao mamma! Microfonata, sono stata microfonata. La contanda c'è e adesso manca solo la mia sfida. Ed è finita la diretta amici, eccoci qua tutto il team. Adesso si va? Adesso si va a mangiare, ce la siamo cavata, però quelli di Fornelli sono stati più bravi. Ciao ciao!